Amici sportivi del Mala, appassionati di Formula 1 è venuto il momento di analizzare la gara dei 70 anni della Formula 1 che si è corso sul circuito di Silverstone tramite i voti del Mala e quindi siamo giunti alle malapagelle del Gran Premio dell'anniversario dei 70 anni dalla nascita ufficiale della Formula 1 quindi non perdiamo subito tempo e andiamo ad analizzare il primo voto al primo pilota che ha vinto il Gran Premio appunto dei 70 anni dalla nascita della Formula 1 di Silverstone voto a Max Verstappen 9,5 non do il 10 solo perché in qualifica Verstappen e la Red Bull paga ancora tantissimo in termini di secondi di distacco alla Mercedes per il resto è un weekend addio della Red Bull ma anche di Verstappen perché decisivo è stato il fatto di qualificarsi in gara con la gomma più dura è stata la mossa geniale da parte degli ingegneri della Red Bull ma anche la gestione delle gomme sono stati quasi i migliori della gara dell'altro ieri quindi insomma bene 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 per Verstappen e la Red Bull essere competitivi così e creare difficoltà importanti alle due frecce d'argento quindi bravo Verstappen adesso si trova a 30 punti di distacco da Hamilton è ancora un distacco considerevole però insomma è un mondiale comunque semi riaperto grazie appunto a Max Verstappen e al coraggio della Red Bull Hamilton che si classifica secondo si prende un 6 ma risicato perché insomma non è stato un weekend incredibile da parte di Lewis è battuto da botta si inqualifica soffre tantissimo nella gestione delle gomme diciamo che non è molto d'accordo con l'ingegnere della Mercedes di andare ai box per la seconda volta lui voleva finire la gara con il primo treno di gomme dure montato ma chiaramente non poteva finire la gara con il primo treno di gomme perché era completamente andata non aveva più gomma quindi Hamilton va guidando letteralmente sulle uova infatti Verstappen piano piano gli guadagnava secondi su secondi e quindi insomma alla fine la seconda sosta ci sta per Hamilton però insomma un weekend un po' negativo per Lewis si capiva che Mercedes voleva veramente vincere tutte le gare quest'anno non accadrà perché insomma la Red Bull ha rovinato i piani di Lewis e di Toto Wolf Bottas sull'altra Mercedes 5 e mezzo se fino alla pole del sabato e alla prima parte di gara era ampiamente sufficiente poi però diciamo che la strategia un poco lo penalizza anche lui soffre degli stessi problemi di Lewis però insomma manca quella cattiveria comunque a Bottas per azzannare la gara per lottare per il titolo con il suo compagno di squadra cioè insomma non mi ha convinto per l'ennesima volta ha rinnovato per il 2021 sempre con la Mercedes ma ripeto se vuoi vincere un titolo mondiale secondo me è il caso che Bottas deve cercare qualche altro team Leclerc su Ferrari 8 se non è il migliore ma poco ci manca perché con il 14 che si ritrova fare quarto è un risultatone pazzesco non si immaginava nemmeno lui arrivare quarto infatti alle post gara se l'avete sentito addirittura si immaginava un settimo un ottavo posto invece è arrivato addirittura quarto con la Ferrari che si ritrova mago della gestione gomme è stato l'unico fra i big a fare un'unica sosta quindi si conferma ancora una volta Leclerc un ottimo pilota a gestire le gomme sta migliorando in questo perché va bene nelle altre qualità è molto bravo ma era un pochino carente con la gestione delle gomme mentre invece in questi ultimi due gran premi abbiamo visto un Leclerc molto migliore sulla gestione delle gomme ripeto questo 8 se lo deve prendere solo lui la Ferrari è ancora insufficiente ma almeno abbiamo visto una Ferrari che sulla gestione gomme pare essere quasi la migliore dell'8 quindi ottimo Leclerc parzialmente ottimo ma proprio parzialmente anche la Ferrari bisogna essere onesti Albon sull'altra Red Bull 6 non sei risicato perché insomma battuto dal compagno di squadra di 40 secondi si fa battere continuamente dal proprio compagno di squadra soffre secondo me un pochino del confronto con Verstappen Albon deve fare meglio di così perché insomma l'anno prossimo non è molto sicuro di essere confermato alla guida della Red Bull Gasly e Chiat stanno scalpitando in Alfa Tauri quindi non lo so deve fare di sicuro meglio di così Alexander Albon Lance Stroll sulla prima delle due Racing Point 5.5 non è una gara che mi ha per niente convinto la Racing Point forse e anche con Strolli in questo caso forse vogliono stare un secondo schisci dopo aver preso la penalità di punti e la multa dei 400.000 euro vogliono stare un secondo calmi e far vedere che insomma non hanno commesso tante irregolarità secondo me Strolli non ha fatto una buonissima gara vedendo poi cosa ha fatto Hulkenberg che fra poco ve ne parlo non è un buon segnale per Strolli che vabbè è un pilota buono ma non buonissimo comunque per lottare ai vertici anche nel futuro anche se il padre è il proprietario del team Hulkenberg finisce settimo però si merita un bel 7 perché appunto poteva stare benissimo davanti a Strolli ma purtroppo è stato chiamato ai box per fare la terza sosta perché hanno visto che non riuscivano ad andare avanti con il secondo treno di gomme dure però se non faceva la terza sosta stava nettamente davanti a Strolli e questo è un segnale fortissimo che ha mandato Hulkenberg a tutto il mondo della Formula 1 nel senso che è ancora molto competitivo quindi forse nel 2021 non siederà su una monoposta in Formula 1 ma nel 2022 secondo me qualche team dovrebbe fare dei valutazioni su questo pilota del peso che è secondo me molto molto forte e competitivo Hulken sulla Renault 6 anche qui si è risicato perché mi aspettavo qualcosina in più dalla Renault però a meno ha il merito di andare in zona punta e battere Ricciardo però un Hulken che insomma non mi è molto piaciuto anche lui è stato uno dei pochissimi a fare l'unica sosta quindi anche per questo comunque si guadagna la sufficienza però per il resto insomma mi aspettavo qualcosina in più in generale dalla Renault come mi aspettavo qualcosina in più anche dalla McLaren di Lando Norris 5 e mezzo viene battuto appunto dalla Renault però insomma la McLaren che finisce nona è un po' una nota stonata va bene Norris va ancora in zona punti si trova quinto nella classifica piloti che è un risultatone pazzesco fino a questo momento però insomma c'è la McLaren ci ha abituato nelle scorse gare a finire bene in top 5 in top 6 oggi invece è finito solo 9 insomma non benissima la McLaren e Norris bisogna dire la verità Chiat che fa che conclude la zona punti 6 e mezzo buonissima Alfa Tauri e mezzo punto in più per Chiat che ha l'onore di battere il compagno di squadra Gasly e di dare ancora una piccola speranza magari per l'anno prossimo per riapprodare di nuovo in Red Bull comunque un Alfa Tauri che mi sta piano piano convincendo adesso però andiamo alle insufficienze Vettel 5 non si capisce perché le Clega con la stessa macchina va da dio comunque in qualche modo mentre per Vettel insomma è una gara partita dandica con il suo solito testa a coda che dire non è neanche stato toccato è stato un testa a coda veramente incredibile poi se ne aumenta tanto della strategia con la squadra insomma un Vettel che ve lo dico da tempo questo campionato per lui sarà molto faticoso perché insomma sa già di non essere tra i piani principali della Ferrari di conseguenza lo stanno anche un secondo isolando però insomma mi dispiace anche tantissimo vedere un Vettel così rassegnato e non combattivo come al solito ecco mi fa molto male vedere questo in Ferrari è anche perfetto quindi vabbè a sto giro si becca il 5 però è anche da amputare alla scuderia nei suoi confronti Sainz e Ricciardo si meritano anche loro i 5 perché vengono battuti dai propri compagni di squadra e perché poi non rientrano in zona punti e quindi insomma non mi hanno molto convinto Ricciardo che proveniva dal quarto posto di due domeniche fa e invece domenica non ha fatto per niente bene è finito quattordicesimo con una sosta in più per l'altro quindi male 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 l'Areno ma anche male 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 Sainz che insomma anche in questo caso viene battuto la Norris quindi insomma entrambi si meritano il 5 ma do anche un voto alla Pirelli alla Pirelli do un bel 10 perché insomma ha scompigliato le carte nella maniera più assoluta dopo i problemi che si sono verificati domenica scorsa nel Grand Prix di Gran Bretagna a Silverstone decide di mettere gomme leggermente più morbide pressioni più alte onde evitare questi flashamenti nelle gomme come appunto nel primo appuntamento di Silverstone di 2 e ne ha ragione perché insomma ci sono stati più pit stop lo spettacolo è aumentato diciamo che nei doppi appuntamenti all'inizio avevo un pochino paura di assistere a due gare monotone e invece hanno cambiato le carte quindi brava Pirelli scelta coraggiosa che sta per il momento pagando quindi diciamo che questo weekend la Pirelli è stata un pochino la migliore ecco nel weekend che si è appena concursa quindi brava Pirelli a rischiare e a mescolare anche le carte in questi appuntamenti doppi sugli stessi circuiti bene concludo qui le malapagelle del Gran Premio dell'anniversario di 70 anni della nascita della Formula 1 ci vediamo domenica prossima per il commento del Gran Premio di Spagna sul circuito di Barcellona dove sarà un'altra cosa e vedremo se la Rebo metterà ancora in difficoltà la Mercedes e vediamo se anche la Ferrari farà dei passi in avanti molto molto importanti per il momento con il mondo della Formula 1 è tutto iscrivetevi al canale mettete un like condividete il video con tutti i vostri amici appassionati di Formula 1 iscrivetevi alle mie pagine social qua sotto in descrizione trovate i loro link per il momento è tutto vi auguro un buon pomeriggio sempre dal mala a Ciao